Non possiamo più parlare del problema zingari, ma dobbiamo parlare del problema che hanno gli zingari. È molto diverso. Se io arrivando qui oggi fosse affetto da una grave patologia infettiva, sarei un problema per tutti, ma il problema principale fino a quel momento l'ho io. Sono io a vivere sotto un ponte. Che cosa si può fare? Qualche idea. I campi nomadi sono una realtà solo e unicamente italiana. In tutto il resto del mondo i rom vivono in appartamenti come tutti, o se estremamente poveri, come tutti i poveri in bidonville o sotto un ponte. Ma il campo nomadi, come lo intendiamo noi, è una realtà solo italiana. Sistemazione dei rom in situazioni abitative vicine al campo nomadi sgomberato. Perché i rom che vivono in quel quartiere hanno avviato rapporti, vivono una interazione. I bambini frequentano quelle scuole. Dopo scuola per i bambini rom è un'altra cosa importante. Immaginiamo il bambino, il nostro figlio perde una lezione di grammatica a scuola. Va a casa, bene o male, qualche genitore ti sa dire qualcosa. Un po' più complessa. E se il bambino perde quella lezione e ha la mamma che ha problemi con la lingua italiana. Se alcuni rom si spostano, allora dobbiamo creare delle aree di sosta attrezzate. Dando rispetto, tu puoi chiedere poi il rispetto. Se tu fai stare una persona sotto un ponte, non puoi chiedere il rispetto delle regole. Sotto un ponte non ci sta. Ti assumi qualunque responsabilità di mandarli via, di fare qualcosa, ma comunque sotto un ponte non ci fai stare nessuno. Diritto alla casa popolare. Sono italiani, ma lo sgombero non viene considerato sfratto. Riconoscere i rom e i sinti come minoranza linguistica. Vietare ai giornalisti la possibilità di identificare chi commette un reato con la sua appartenenza etnica. Quindi non è uno zingaro che ha rubato, ma è Giovanni Rossi che ha rubato. E lui risponde per se stesso e non per un'intera etnia. Mi sembra talmente logico come se uno dicesse sei italiano, sei come Totorina. No, scusami. Dei rom e dei sinti conosciamo solo una piccola sfaccettatura. Il nostro pregiudizio non nasce dal nulla, come qualunque pregiudizio non nasce dal nulla. Ma quella è solo una piccola parte. È vero che alcuni rom rubano, ma è anche vero che esiste un mondo che non sta facendo nulla, ripeto, nulla, per provare ad andare avanti insieme. Perché penso che solo insieme si possa andare avanti. Grazie.